Giulia Delelli s'innamoratissima di Carlo Gussalli, rampollo di casa Beretta. L'influencer ha spiegato a Novella 2000 i motivi che l'hanno spinta tra le sue braccia. Impegnata nella conduzione di Love Island, per Giulia Delelli s'amore e carriera vanno a gonfie vele. E si incrociano pure. Già, perché mentre lei si gode la sua storia d'amore con Carlo Gussalli, è anche impegnata a fare da cupido ai giovani concorrenti del reality che sta andando in Ondasu Discovery+. Un successo dietro l'altro per lei, che su Instagram è tra le influencer più seguite in Italia con ben 4,9 milioni di seguaci all'attivo. La storia con Andrea Damante, grazie alla quale ha conquistato la popolarità, è ormai solo un lontano ricordo. Giulia cammina sui suoi passi e si sta sta costruendo una carriera anche in TV. Con Novella 200, che l'ha intervistata, si è però confidata sulla sua vita sentimentale, svelando cosa l'ha colpita del suo attuale compagno. Impegnata ancora nelle riprese di Love Island, la Delellis si trova a Gran Canaria, nella speranza che il suo amato possa raggiungerla il prima possibile. Nel frattempo, ha svelato che cosa l'ha conquistata di lui, rampollo della famiglia Beretta produttrice di armi e già noto alle cronache rosa per aver avuto in passato una storia con l'ex gieffina Diane Mello. Non mi è mai capitato di frequentare una persona così profonda, interessante e sensibile, ha detto l'influencer a proposito del suo compagno. Lui è un ragazzo di una volta, che non ha età e questa è una cosa più unica che rara, ha concluso, con gli occhi a cuoricino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.